Primo tempo che qualcuno ha definito come spaziale? Sì, è vero, abbiamo fatto un gran primo tempo, andare in vantaggio tre volte, poi peccato per quel gol che abbiamo preso che ha aperto un po' la partita. Che partita è stata però secondo te tu che l'hai vissuta praticamente tutta? Allora, primo tempo, secondo me abbiamo fatto un grandissimo, forse la migliore partita, cioè primo tempo la migliore, poi secondo tempo con l'espressione di Laribi abbiamo sofferto un po', come giusto che sia, perché in 10 non è facile, però non abbiamo preso quel gol che all'inizio che magari ci portava a soffrire di più. E siete stati bravi anche nel secondo tempo in inferiorità a tenere il risultato? Sì, abbiamo lottato tutti insieme, poi anche gli attaccanti, quelli che dovevano sacrificarsi un po' di più, ma giusto così l'importante è la vittoria della squadra. Ecco, una vittoria di gruppo. Anche. Hai una dedica per il gol? Una dedica, lo dico ancora che il mio cugino me l'ha detto ancora che oggi segna ancora. Che ti mancava forse in questi due anni di fanfulla era proprio quella con la continuità a livello realizzativo che stai trovando adesso? Sì, è vero che anche l'anno scorso con il gol non ero messo bene, però lavorando ogni giorno e poi mettersi a parte a fare i tiri e così, i risultati arrivano.